Per uno che sta in acqua e fa degli sforzi in piscina Non è bello È la cosa peggiore Mamma mia Non è bello È la cosa peggiore che ti può capitare Non è per niente bello Perché poi proprio saranno a fare tutti i movimenti di bacino Che facciamo con le subacque Cioè hai avuto un'immagine un po' di effetto seppia, capito? Ma guarda se l'avessi fatto secondo me magari potevo arrivare anche sul podio quella volta Ma mancato l'effetto seppia, capito? Il nostro Cioè comunque se sta andando male Puoi diventare memorabile Capito, esatto Cioè rimani poi negli annali di YouTube, è chiaro We got you Ciao amici, bentornati a We got you Oggi parliamo di nuoto perché l'ospiro di oggi è Luca Totto Ciao Luca, come stai? Ciao a tutti, ciao ragazzi Io sto bene, grazie mille dell'invito Grazie a te per essere qui È veramente bello essere qui in mezzo a voi Grazie Allora che ci dici, che periodo è? Come sta andando la preparazione? Che momento è? Allora è un periodo tosto Un periodo tosto perché avremo a inizio marzo quelle che sono le qualifiche olimpiche Quindi potete bene immaginare che questo qui per me è un periodo di proprio carico assoluto Ora inizieranno le prime competizioni, diciamo test, infatti a breve sono in partenza perché tra due giorni partirò per il Lussemburgo a gareggiare Però diciamo che arrivo da un periodo di tre mesi dove ogni giorno ho letteralmente sputato sangue in acqua, sia in acqua che in palestra perché è questo quello che facciamo noi notatori per divertirci Sputiamo fuori l'anima tra acqua e cloro giornalmente, è molto bello E in Lussemburgo che tipo di gara è? In Lussemburgo è uno dei meeting diciamo invernali più importanti che ci sono in quello che è il panorama internazionale delle gare Ci sono tantissimi atleti di tutte quante nazionalità che andranno a farne parte Ne posso citare qualcuno come il campione olimpico sudafricano Chad Leclo Nella mia gara avrò Ben Proud che è stato campione del mondo nel 2022 a Budapest Quindi il parco partenti è ben nutrito e cercare di fare questo tipo di competizioni dove magari vado anche a fare quello che è un viaggio Che non è chiaramente comodo come gareggiare qui in Italia Mi aiuta molto perché ti mette subito in quella che è la condizione soprattutto mentale Di cercare di dare il 100% anche se non si è al 100% a livello fisico Se magari si è pieni di dolori, affaticati degli allenamenti Però ti mette già nella condizione di idee di fare la gara con una determinata mentalità Che è quello che serve poi per riuscire poi a performare al 100% Non soltanto il fisico ma anche la mentalità E mentalmente tu fai un percorso per un mental coach? L'ho fatto E devo dire che è stato un percorso che all'inizio sottovalutavo E devo dire che all'inizio della mia carriera Quindi quando avevo 19-20 anni Quando poi c'è stato il mio primo ex plua a livello nazionale Con le prime medaglie a livello europeo e mondiale Come ogni ventenne un po' sbruffone Che si sente, sai adesso sono arrivato, sono il più figo di qua È fatta, è facile, sono il più forte di tutti Avevo dichiarato in un'intervista E ora mi mangio le mani perché mi rilego le frasi e dico che coglione che ero E avevo detto il mental coach, lo psicologo è per i deboli, a me non serve Ebbene dopo qualche anno mi si è tutto quanto ritornato contro Chiaramente e ne ho avuto bisogno Ho fatto un passo indietro Soprattutto a livello appunto di umiltà diciamo E ho capito quella che è l'importanza di avere un aiuto da questo punto di vista Non soltanto dal punto di vista, parliamo della prestazione Ok? E quella che può essere anche la motivazione che tante volte può mancare In un atleta che fa da tantissimi anni lo stesso sport Fa da tantissimi anni i stessi tipi di allenamento Quindi comunque subentra anche quella fase di routine Che un po' ti può far calare quella che è l'attenzione Su quelli che sono gli obiettivi più importanti Quindi magari hai bisogno di qualcuno con cui parlare Che ti tenga sempre l'attenzione molto alta E poi anche per quelle che sono delle vicissitudini personali Che essendo degli atleti non siamo Diciamo non abbiamo il giubbotto antiproiettile contro quello che la vita ci offre Quindi possono succedere comunque fatti personali Che ti buttano giù moralmente Che ti fanno perdere quella che è la fiducia in te stesso O qualsiasi altra cosa Per i quali hai bisogno di parlare con una persona Che sia diciamo esterna anche da quello che è la tua cerca familiare O di quelli che sono gli amici Dove tante volte magari hai paura diciamo di essere Non dico giudicato Però essere visto in maniera magari diversa E ti può dar fastidio Invece poi ho trovato tantissimo aiuto Nel parlare Nel confidarmi Nel farmi aiutare Farmi consigliare Anche nel piangere Ok? Con quelle che sono delle figure professionali Che ho ricercato con attenzione Perché poi al mondo d'oggi Ci sono tante persone che magari si inventano Quella che è la professione Magari leggono due libri Dicono adesso sono un mental coach Un professional speaker Esatto Noi abbiamo avuto qui una mental coach Che è Nicoletta La mental coach di Jacobs Ah ok certo Ha lavorato con anche un mio compagno di squadra No no Lei è strabrava E lei ci raccontava proprio Di quanto la chiamavano Durante le Olimpiadi Perché lei alle Olimpiadi Aveva almeno 10 sportivi Tantissimi La chiamano insistentemente Le do a fare la respirazione E quindi che cosa si prova a trovarsi là E quanto quanta tensione c'è Tensione ce n'è tanta In determinate situazioni Come appunto le Olimpiadi O prima di una finale mondiale O magari anche comunque Prima di una batteria Dove magari teoricamente Sei un atleta forte Hai diciamo i mezzi Per poter passare alle semifinali Abbastanza agevolmente Però tante volte E parlo proprio per esperienza personale Sei il primo a metterti quelli che sono I bastoni tra le ruote In maniera involontaria Perché ti crei aspettative Nei mesi precedenti Quindi sei tra virgolette Carico Ok sia di voglia Però certe volte Magari la mente fa di viaggi strani Per i quali Anziché visualizzare le cose positive Inizi magari a visualizzare le cose negative E se entri in quel loop E non sei bravo Subito ad accorgerti Che sei entrato in un loop negativo Arrivi magari al momento della gara Che ti autodistruggi completamente Nuoti rigido Sei mangiato letteralmente Da quella che è l'ansia Non riesci a essere lucido In quello che fai E da questo punto di vista Un aiuto appunto Esterno Con quella che hai una telefonata Anche semplicemente un messaggio Può farsi che tante volte Ti sblocca Quella situazione E dove tu riesci magari Ad arrivare molto più tranquillo E poter poi dare fuoco Quello che è il tuo potenziale Il tuo vero potenziale E vi dico sempre Noi siamo Noi sportivi Al di là del nuoto Ma proprio sportivi in generale Siamo come delle macchine Da Formula 1 Quindi settate Durante l'anno Aerodinamica Gomme Le sospensioni Il motore I giri L'olio La temperatura Ok Però poi se non ci metti Il pilota Quindi la testa Giusta Per poter portare Quella macchina Al vero limite Chiaramente La macchina è limitata Certo È limitata perché Se io guido una Formula 1 Non potrò mai essere performante Come Verstappi E non Leclerc Magari la porto sul circuito E giro Dieci minuti più lenti di loro Per fare un esempio Da quanto sarei incapace Stessa cosa succede Comunque col fisico Di quello che è un atleta professionista Quindi da questo punto di vista Essere seguiti Fare esercizi Come appunto Mari Hai citato te Quelli di respirazione Che ti possono calmare Ci sono tante tecniche Che Mari ti possono offrire In quello che diciamo È una scelta Quelli che sono in mental coach E gli psicologi Poi sta a te Capire Tramite anche quella Che è l'empatia Che si crea Con appunto queste figure professionali Qual è il giusto percorso Quello che ritieni meglio Migliore per te Dove ti ci senti più a tuo agio E capisci Che dai subito la fiducia A quel tipo di percorso E è quello che serve per te Perché chiaramente Siamo tutti quanti diversi Magari è un atleta Funziona nel discorso Della visualizzazione Della gara Quindi si mette lì Con gli occhi chiusi E immagina Ogni singolo passo Che fa Per arrivare Al bordo della vasca Oppure su quella Che è la pedana di partenza Si immagina La prima bracciata Con che braccio Quando respirerà La virata Quanti colpi di subacquea Per esempio A me è una cosa del genere Mi ha sempre dato ansia Ho provato a farla Paranoia Esatto Io divento ansioso Se inizio a pensare troppo Alla gara Io sono sempre stato uno Invece che Per performare al meglio Mi ci devo trovare Quasi per caso Sul blocchetto di partenza Nei giorni prima Cerchi di distrarti un po' Esatto Fare le mie cose Ok In maniera comunque Corretta In maniera Specifica Giusta Però nel momento In cui esco dalla vasca Non pensarci più Perché poi Per come sono io Personalmente Sono una persona Che tante volte Tende a pensare troppo E carico Carico mentale Tante volte Mi sono mangiato Situazioni Che potevano essere Decisamente Migliori Proprio per questo Mio carico mentale Eccessivo Che poi Mi hanno fatto letteralmente Far schifo Insomma In acqua Non lo nascondo È vero È nata così Io Sono sì Ricordato Ormai sono per essere ricordato Perché sono gli ultimi due anni Della mia carriera Ormai questi qui E vengo ricordato Sì per quello che ho vinto Per fortuna Però Se uno va a vedere Quella che è stata la mia carriera Le cose che ho lasciato Tra virgolette Non dico a metà Però le situazioni Che non sono riuscito A sfruttare Al meglio Sono molto Molto di più Rispetto a quelle Dove poi Ho vinto Comunque sono riuscito A portare a casa Una medaglia Capito Quindi Poi con l'età Fai chiaramente Quella che è Non dico un esame Di coscienza Però fai i conti Dici Certo che se avessi avuto Una mentalità Differente O qualcuno Che magari mi aiutava In maniera differente Avrei potuto scrivere Un'altra storia Non mi lamento Perché comunque Nel mio Ho fatto Chiaramente Però Agonista Perché pensi Poi perché sai Sei sempre un perfezionista Comunque a questi livelli qui Cerchi sempre di capire Cosa puoi far meglio Dove avresti potuto far meglio E quindi Anche se chiaramente Pensando al passato Non ci possiamo far niente Perché è inutile Come pensiero Però Ti rimane Il discorso di dire Ma se avessi In quella situazione Scusa Luca Ma tu adesso Hai 33 anni 33 anni Ne faccio 34 D'aprile Ma ancora adesso Dopo tutta la tua carriera Quando fai una gara Hai ancora tutto questo carico Diciamo di tensione Di ansia Perché io dico Magari Non so Hai fatto Penso centinaia di gare Più di migliaia Migliaia di gare Hai fatto due olimpiadi Che penso sia il palcoscenico Più grande Che uno possa sognare Allora mi immagino Che magari uno Vada a fare la gara Non dico rilassato Però comunque Con molta meno tensione Rispetto a quando Sei più giovane Allora C'è molta meno ansia Quello sì La tensione c'è sempre Comunque la tensione Poi soprattutto Nelle gare Come le mie Ovvero 50 100 stile libero Nel 50 stile Ci giochiamo tutto quanto Nell'arco di 21 20 secondi Se la facciamo in vasca corta 20 secondi Insomma E potete ben capire Che Ogni singolo dettaglio Ogni singolo particolare Conta E se lo sbagli La gara è finita Non c'è modo di recuperare Nelle vasche successive Come magari può succedere Per un 400 Un 800 Un 1500 Anche in un 100 Anche se sono Andate e ritorno In vasca In vasca da 50 metri Se già sbagli Magari Una bracciata Dopo quella che è la partenza Come Esci da quella che è La fase subacquea O invirata Non appoggi bene i piedi E perdi magari anche Quel decimo 2 Nel confronto con gli avversari Sai già che Hai dato Quindi la tensione In determinati tipi di gare Ci sarà sempre E Per fortuna che c'è Perché comunque La tensione Se poi sei capace Di trasformarla In Adrenalina Ok Ti dà comunque Per quanto poco Un vantaggio Importante Perché Ti accende Ti attiva In una maniera giusta Non deve diventare ansia Ok Perché poi Il passaggio è molto semplice Con gli anni Ora sono decisamente Migliorato Ok Non è migliorato Il mio fisico Perché sta decadendo Purtroppo È un fattore naturale Perché ora I ragazzi contro cui Devo gareggiare Sono tutti quanti nati Dal 98 In poi Quindi comunque Molto molto giovani Giustamente Come io ho iniziato A 19-20 anni A essere competitivo A livello mondiale Ora lo sono loro Chiaramente Ora Faccio il discorso Certo che se avessi avuto Questa testa 10 anni fa E quindi magari Però tipo Rispetto ai ragazzi Che ci stanno adesso Che sono più giovani Di te Però tu magari Hai questo vantaggio Loro hanno un fisico Che magari Riesce ad andare meglio Di te Magari sono meno Stronzi Di come eri tu Prima di 20 anni Ma no No Stronzi Lo siamo un pochino tutti Perché poi È uno sport Dove devi Letteralmente Cercare di sbranare Gli altri Fino all'ultimo Centimetro Perché poi Succedono quelle volte Che magari rimani dietro Per 1-2 centesimi E lì tiro Veramente a livelli Inimmaginabili Devi essere un po' stronzo È comunque Sport dove Comunque C'è una prestazione Nel confronto degli altri Dove non c'è Quello che è un gioco Ma devi essere migliore Degli altri A tutti i costi Devi avere Quel pochino di Infatti Mi interessava anche Sapere Che rapporto c'è Poi con i due colleghi Perché ok Magari amici Vi allenate insieme Tutto Però comunque La competizione è altissima No ma guarda C'è da dire che Per fortuna Una volta che finisce La gara Dove Chiaramente I tuoi avversari Quelli che hai di fianco Sono i tuoi nemici Ok E pensi proprio E pensi proprio A cercare Di batterli In tutti i modi possibili A quasi volerli umiliare Da cercare Di mettere la mano avanti Il più possibile Una volta che si tocca Quello che è La piastra Finisce tutto quanto Finisce tutto E questo è molto bello Ed è una cosa bella Perché Poi si esce insieme Si fa festa insieme Si passano periodi Di allenamento insieme Dove si fanno appunto Gare giornalmente Testa a testa Per cercare di spingere Quelli che sono i propri limiti Sempre più avanti Quindi Per fortuna Di situazioni Diciamo Antipatiche Tra Atleti E Proprio anche Diciamo Avversari Delle stesse gare Ce ne sono state Veramente pochissime Nell'arco Della mia carriera Ma parlo proprio in generale Proprio per il movimento Del nuoto Perché Ovvio C'è chi ti è simpatico Con chi un po' meno Però non c'è mai Stata diciamo Una situazione Dove hai visto la gente Mandarsi a quel paese In maniera pesante Sempre Esatto C'è sempre stato Sempre il rispetto Sempre a braccio A fine della gara Sempre la mano stretta Poi per carità Gli rodeva il culo Quello che era stato battuto Giustamente Però ciò non andava Poi magari A deficitare Quello che era Comunque il rapporto Che si crea negli anni Gareggiando Tante volte Insieme con quelli Che sono i tuoi avversari Quindi Questa qua è una cosa Molto bella Da parte Di nuotatori Nel mondo del nuoto Ecco Invece abbiamo parlato Della Diciamo Della preparazione mentale Per quello che riguarda La preparazione fisica Adesso Che momento è Nel senso che Penso che L'obiettivo sia arrivare Al picco Quando ci sono le qualifiche Alle olimpiadi No? Quindi come funziona Un po' la parte Dell'allenamento Allora La parte dell'allenamento Diciamo che nel nuoto Funziona con Di macro cicli Di allenamento Che devono durare Almeno 3-4 mesi Diciamo Poi Io in questo In questo momento Arrivo in realtà Da un periodo Di allenamento Molto più lungo Perché ho ricominciato Sì In realtà Non mi sono mai fermato Quest'estate Però ho nuotato In maniera Molto blanda Diciamo Nel periodo Luglio-agosto Per non perdere Quella che è la sensibilità Con l'elemento Con l'acqua Perché il nuoto Purtroppo È uno sport Bastardo Da questo punto di vista Perché bastano 2-3 giorni Allì fuori dell'acqua Che rientri in acqua Il quarto giorno Che ti sembra di essere Il primo giorno Di scuola di moto Perdi un sacco Di sensibilità Ti muovi In una maniera Che non ti sembra Comunque più Coordinata Nella maniera corretta E questo Purtroppo Ci obbliga A cercare A dover stare in acqua Tutti i giorni Comunque Possibili A parte magari La domenica Giustamente Dove anche noi Stacchiamo Però tutti i giorni Nella settimana E magari qualche giorno Anche con i doppi allenamenti Sia mattina Che pomeriggio In acqua Fa sì Perché questo È necessario Per mantenere Quello che è Il livello Di sensibilità Sempre alto Quindi Macrocilchi Da 3-4 mesi Dove c'è quella Che è una fase Di carico Si può partire Da una fase Di carico aerobica Quindi comunque Dove vai a fare Un tot di chilometri Cercando di nuotare bene Mettendo a posto Quella che è la tecnica Creando quella Che è tutta quanto Diciamo un po' Di resistenza E poi Man mano Che si si avvicina Un pochino di più Alla gara Verso Diciamo Due mesi dalla gara Inizia la fase Dove si aumenta La qualità del lavoro Che sta a significare Dove si vanno a provare Si va a stimolare Quello che è il corpo Nei passi gara Nei passi gara effettivi Dove raggiungi Le velocità della gara Dove cerchi di mantenere Quella velocità Il più tempo possibile Durante i allenamenti Per più serie possibile Cerchi di fare Delle prove di gara Diciamo Esatto Però Prolungate Io faccio i 100 Un esempio di lavoro Possono essere Che ne so 8-10 volte I 50 metri Nuotando con la velocità Da 100 Quindi cercare di Concludere quello che è il 50 In 24 secondi Ok Con un minuto e 30 Due minuti di riposo Massimo E cercarlo appunto Di farlo 8 volte Magari con 2-3 serie In modo tale che Stimoli quello che è il tuo corpo A produrre una quantità Di acido lattico Enorme Enorme Ok E Una volta che viene prodotto Quell'acido lattico Man mano che Lo stimoli Giorno dopo giorno Il tuo corpo poi Impara A tranne beneficio Dalla produzione di acido lattico E ne trai energia Che poi andrai a utilizzare Quel tipo di energia Nel giorno della gara Dove arriverai Nella fase di scarico Che dura almeno Due Diciamo anche tre settimane Dove gradualmente La quantità del lavoro Diminuisce I chilometri diminuiscono Quindi si va proprio a riposare In maniera sempre più graduale Dove si fa tanto lavoro Di tecnica Dove ci cerca di stressarsi Il meno possibile Però il tuo corpo Automaticamente Ha creato Quella che è una tolleranza All'acido lattico Che fa sì Che teoricamente Il giorno della gara Quella importante Tu arrivi Dove magari Gli ultimi 20 metri Magari senza troppo Allenamento specifico Arrivavi letteralmente Alla cava del gas Invece facendo così Riesci a spostare Quella che è la tua morte Un pochino più avanti Perché è nato Comunque la morte arriva La morte arriva sempre C'era un mio vecchio allenatore Che diceva sempre La vecchia signora con la falce Tanto sai che ti arriva Quindi Rimani lucido Rimani lucido Ci fai i conti Quando la vedi Arrivarti davanti Però Sei allenato La puoi sopportare Solo poi sono gli ultimi 15 metri Nella mia gara Soprattutto che tante volte Fanno la differenza Perché non è un tipo di gara Che è un tipo di gara Si veloce Però che devi partire Comunque con Un po' di intelligenza Tattica Da questo punto di vista Devi saverti gestire Esatto Essendo 100 metri È comunque una gara lunga Non è come nell'atletica Che sono 9 secondi 100 metri nel moto Comunque corrisponde quasi A un 400 Dell'atletica 400 dell'atletica Li fanno in 43 secondi Noi in 47 48 secondi Diciamo in Vasca Lunga Quindi è lunga Ne produci di acido lattico E quindi Anche se sei Allenato Da Dio Sai che comunque Fisiologicamente Tu morirai Verso la fine arrivare Nessuno arriva fresco È come scopare Sì esatto Comunque sai che mi arriva 47 secondi Sai che dovresti fare di più Sì esatto però E il reel l'abbiamo fatto Scusa ci hai parlato Dei tuoi allenamenti Un pochettino E a me A parte l'unico commento In me è che bucio di culo Mamma mia Tutta quella roba Ma la cosa che mi ha impressionato Io sono appassionato Come ti dicevo anche prima Di ciclismo E la cosa che mi impressiona Degli allenamenti Di questi Di endurance Comunque diciamo È la ripetitività Del gesto Cioè a un certo punto Tu non Ti ha detto Non ti rompi il cazzo A un certo punto Ma giornalmente Ore e ore A fare la stessa cosa Tutti i giorni Ma giornalmente Come fai? Qui lo dico Cioè Il nuoto è un sport di merda Ragazzi Cioè È uno sport Che comunque Per farlo A questi livelli qui Noi dobbiamo avere Quello che è un Disordine mentale Abbastanza importante Perché non è divertente Fare su e giù Per una vasca Con la testa Che ti guardi Mentre guardi Questa linea nera Piastrelle Dove prendi freddo Dove sei sempre bagnato Dove ti prendi raffreddore Ogni Ogni singolo giorno Durante l'inverno Non c'è un gioco Non c'è un'attività ludica Però la ripetizione Fa sì che Ti si crea Quella memoria muscolare Che è essenziale Perché durante il giorno Della gara Non puoi pensare Come mettere le braccia Come fare la partenza Come fare la virata Con che braccio Entrare in virata Se col destro O col sinistro Cioè deve essere Tutto quanto automatico E quegli automatismi Li crei proprio Con una ripetizione Maniacale Milioni di volte Di quello che è Quel determinato gesto Durante l'allenamento Durante l'allenamento È il momento in cui Noi dobbiamo pensare A come fare le cose A cosa stiamo facendo Essere sempre Comunque sul pezzo Durante la gara Dobbiamo semplicemente Girare quello Che è l'interruttore E cercare di dare A fondo Il più possibile Quelle che sono Le nostre riserve di energia In modo tale Da arrivare alla fine Centelinandole Nel corso della gara Nella maniera corretta Però sapendo Di aver dato fondo A ogni singola goccia Di benzina Che abbiamo dentro Il nostro corpo Capito La ripetitività Purtroppo È quella Però Abbiamo tantissimi esempi Di atleti Che sono stati Maniacali In quella che è La loro preparazione Come Kobe Bryant Per esempio Come Michael Jordan Qualsiasi Talento del genere Che poi è diventato Un super campione Ha fatto Della ripetitività Dei suoi gesti Di ogni singolo Particolare Anche di un millimetro Di quello che è Il palleggio O meno Come posiziona il corpo Quella che poi È stata la chiave Della reale differenza Che ha fatto Nei confronti Della massa Di atleti Che comunque Sono arrivati A un livello ottimo Ma quelli che poi Riescono veramente A avere quello che è Il picco E definirsi poi fenomeni Sono quelli che hanno avuto Ancora più Sono stati capaci ancora Di essere più maniaci Nel fare queste cose qui L'ossessione proprio Esatto Per migliorarsi Invece Ci racconti un po' L'emozione Della prima Olimpiade È stata tanta roba Allora io devo dire Che con le Olimpiadi Poi non ho Un bellissimo rapporto Perché Nel 2012 Arrivavo appunto A Londra Dove ero uno dei favoriti Per quella che era La mia gara I 50 stile E anche per il 100 Dove Nel 50 stile L'anno prima Avevo vinto l'argento Ai mondiali Invece nel 100 stile Ero arrivato in finale A due decimi Dal podio Quindi sai Avevo 21 anni Gli occhi erano Chiaramente puntati Su di me Teoricamente Quella che era La fase di crescita Era tutta quanta A mio favore Però io a maggio Nel 2012 Mi sono strappato Il muscolo Sub scapolare Quindi sono rimasto Fermo Bene o male Un mesetto A due mesi Dalle olimpiade Perché poi L'olimpiade Era metà luglio E Non sono arrivato In forma Sono riuscito A arrivare In finale Con la staffetta Ma poi Nelle mie gare individuali Mi sono fermato Alle semifinali E quindi Mi ha lasciato Molto amare in bocca Poi di per sé L'esperienza olimpica È stata Pazzesca Cioè Se vado a scindere Quelle che sono state Le gare Da quella che è stata L'olimpiade Come esperienza È stata L'esperienza Più bella Della mia vita Perché È una cosa Che sogni Fin da bimbo Io La prima grande Olimpiade Di cui comunque Ricordo Era quella Del 2000 Di Sydney Dove appunto Vedemo Fioravanti Vincere i 100 200 rana Massimiliano Risolino Vincere i 200 misti Quindi sai Avevo dieci anni Li vedevo Wow L'olimpiade Che figata Così Neanche mi Mi potevo immaginare Che un domani Sarei stato in grado Io di poterci Arrivare a quel livello È bello Il senso di comunità Che si crea Nel villaggio olimpico Perché tutti quanti Gli atleti Anche con quelli Delle nazioni Sì assolutamente Ma proprio È quella la cosa bella Mentre nei mondiali Negli europei Si è sempre un po' divisi Perché Che ne so La Gran Bretagna Sta in quell'albergo La Francia nell'altro Via vai Lì Il discorso di villaggio Crea proprio Questo senso D'appartenenza Comune Che ti fa fare Un sacco di conoscenze Poi di base Perché Arrivi i primi giorni Vai a esplorare Tutto il villaggio Perché poi ci sono Delle sezioni Appunto ad hoc Per noi atleti Per o allenarci O anche passare Quello che è il tempo libero Con dei piccoli bar I caffè La mensa Il posto dove puoi giocare A biliardo Ping pong Con gli altri atleti Quindi È proprio un posto Dove Devi Uscire da quella Che è la tua stanza E Creare comunque Nuove amicizie Nuove conoscenze Perché è un'occasione Unica nella vita Da questo punto di vista Devi sempre Stare attento Comunque non esagerare Perché poi sai che Insomma ti giochi La gara è più importante Della tua vita Certo Però Anche sedersi a tavola E magari avere Ragazzi dell'atletica Di un altro paese Fare due chiacchiere Capire come loro vivono Cosa fanno Perché poi di base La passione è sempre La stessa Anche se è uno sport diverso E comunque Vivere attraverso lo sport È Qualcosa di incredibile Olimpiade E poi perché Hai la possibilità Di vedere i fenomeni I veri fenomeni Dello sport Così A un metro Cioè io ho questo ricordo Di Londra Che ero Nella fila del metal detector Per rientrare al villaggio Ero così E nel metal detector Di fianco A un certo punto Vedo uno passare Che fa letteralmente ombra Aveva il Come si dice Il cappuccio No il cappuccio Sì vabbè Comunque l'asciugomano In testa Ok Mi giro Ed era bolt Mamma mia E tipo io Io poi c'ho questa cosa Che non chiedo mai Le foto alla gente Perché ho sempre paura Di rompergli un po' le balle Quindi io me li gusto Quando vedo certi personali E tipo Sono rimasto Wow Ti ho detto Bello Una divinità Questo cazzo è grande Perché poi lui Era veramente una branda E poi tu che guardi così Mi sembra un po' strano No no Lui era veramente Una branda Poi aveva sto fisico Nel 2012 Che era praticamente All'apice Della sua carriera E quando l'ho visto Wow Poi nel villaggio Abbiamo incontrato Nadal Abbiamo incontrato Djokovic Abbiamo avuto Disfuggita in piscina Però nel 2016 Abbiamo visto Parte del dream team americano Che era venuto a vedere Le ultime gare di Michael Phelps Negli spalti Abbiamo visto appunto C'era Durant Tutta sta gente qui Le leggende bro E quindi Essere l'Olimpiade Vedere questi atleti Che poi tra l'altro Sono molto disponibili Anche nei tuoi confronti Perché vedi proprio Che ti reputano Loro pari Nonostante loro siano Letteramente I dei dell'Olimpo Diciamo Utilizziamo questa parola Ti fa sentire Proprio parte Di una famiglia Ok La famiglia degli atleti olimpici Ed è Ed è qualcosa Di incredibile Che cosa infatti Che si sono molto lamentati Ragazzi Nel 2021 a Tokyo Perché con tutte quante Le procedure Anti-Covid Non c'era più Non potevano fare Queste cose qua Dovevano stare in stanza Andare a mangiare Andavano a mangiare Tutti quanti Con la mascherina Divisi Con separatori Di plastica Di plexigas Così E poi ritornare Nelle loro stanze Certo Perde proprio tutto Poi ho trovato Anche i palazzetti Vuoti Completamente E lì a Tokyo Avevano costruito Di palazzetti Pazzeschi Per le gare Cioè io mi ricordo Io ho questo ricordo Di Londra Nella finale Da 4% stile Io ho fatto la prima frazione Poi sono uscito E mentre aspettavo I ragazzi che finissero C'era una bagarre Incredibile Tra la Francia L'America Per l'oro Dove poi alla fine La spuntò la Francia E sentivo letteralmente Cioè il pavimento Il palazzetto Del nuoto Vibrare Perché comunque C'erano 25.000 persone Che per una gara di nuoto È qualcosa di impensabile Che facevano il tifo In una maniera Sfegatata Poi comunque Pubblico In maggior parte Inglese Gli inglesi come sportivi Sono Molto caldi Esatto Caldissimi Ed è stato qualcosa Di incredibile Infatti vedere Le Olimpiadi di Tokyo Con gli spalti vuoti Tanto silenzio È stato brutto Da questo punto di vista Infatti mi immaginavo I ragazzi Che hanno Tra l'altro Fatto degli ottimi risultati I ragazzi del nuoto Ma anche quelli dell'atletica Per dirti Poi quelli dell'atletica Ha maggior ragione In uno stadio così grosso Non avere Quel calore del pubblico Che poi noi Diciamo Di sport Chiamiamoci Minori Poche volte Possiamo realmente Apprezzare È stato un peccato Perché io per esempio Da sportivo Invido tantissimo Che ne so I giocatori di basket O di calcio Perché il palazzetto È sempre pieno Lo stadio comunque Bene o male È sempre pieno di gente E sentire quel calore Del tifoso Quelli che chiamano Il tuo nome Quelli che Quando vieni Magari appunto Presentato Ti esalta Capito E io quando ho fatto Vado a vedere le partite Di calcio Rimango affascinato Da quanta gente Va a vedere le partite Che diceva che figata Cioè È quello il bello Capito Sì 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 E infatti La spinta anche in più Per gareggiare Infatti ora Sono qui Che sto cercando Di insomma Tra un mesetto e mezzo Così di cercare Di agguantare Quest'ultimo olimpiato Della mia carriera Perché Parigi Covid non ce n'è più Sarà appunto Iper pieno E vorrei riuscire A vivere Questa ultima Grande emozione Ci sono anche qui Buoni Luigi e Simone Noi andiamo Qualità di atleti Andiamo a vedere Lollo Marsaglia E beh Con i tuffi Tanta roba Abbiamo preso i biglietti Proprio lui Si deve ancora qualificare Non è già qualificato E no Vado adesso È individuale Ah non ancora È sincro Adesso ce l'hanno Eh infatti Daglielo Daglielo Quando uscirà la puntata Già sarà Già sarà Esatto Tra l'altro Lollo mi ha detto Che nel villaggio olimpico Di Tokyo Si mangiava Di Cristo Sì C'erano delle cucine Da tutto il mondo Ti potevi sfondare Non so se era così Pure a Londra Uguale Tu sei stato a Londra E? Londra e Rio E Rio Rio non si è mangiato Bene per niente Rio zero Anche se mi aspettavo Cosa di meglio Perché poi tra l'altro A me il cibo brasiliano Piace tantissimo A Londra invece Una roba incredibile C'era lo stand italiano Ma italiano 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 Cioè non italiano Come trovi in giro Per il mondo Con la carbonara Sopra l'uovo Così esatto Bravo Dove fettuccine al freddo Queste cose qua Basta con le nicola C'era Max Mariola Che faceva la carbonara E c'era poi appunto Lo stand Che ne so Indiano Quello cinese Quello con il sushi Ed era tutto Veramente buono Infatti una volta Che avevo finito le gare Era rimasto 3-4 giorni E avevo avuto la possibilità Poi tra l'altro Di sfondarmi In tutti quanti I vari banchetti diversi Perché durante Cioè l'alimentazione È importantissima Prima Cerchi comunque di Rimanere in quello Che è il tuo range Di abitudini Perché comunque Andare a cambiare Come fai? Cioè nel senso Ti trovi lì Non è facile Allora L'Olimpiadi è facile Perché sai che Comunque mangi bene Fondamentalmente Tante volte Tante volte invece Siamo stati in difficoltà Per esempio In Russia Nel 2015 È un campionato Nel mondo Dove noi comunque Ci appoggiamo In quelli che sono Degli alberghi Catene internazionali Anche Belle Quindi 4 stelle Basta E via così Però tante volte Quella che è la cucina È un pochino improvvisata Quindi Trovi che ne so Sempre il tipo di pasta Un po' scotta Il riso in bianco Il petto di pollo Che diventa come Sto comodino Delle verdure Che poi non sai mai Se fidarti Perché non hai idea Di come sono state lavate Con che acqua Sono state lavate Sono stati dei casi Dove Io pure Cos'era L'Europeo 2018 Mi ero fidato Nel mangiare del salmone Era in Scozia E ho detto In Scozia cazzo Il salmone è buono Non posso sbagliare qui Ed era Il giorno prima del cento stile La notte L'ho passata Non vi dico come Ho chiamato il dottore Tra il mattino Per farmi dare qualcosa Per lo stomaco Tipo Michael Jordan Non so se la sai Esatto Flu game Esatto Uguale Cioè Intossicazione completa Infatti quella mattina Mi ero fatto dare Non mi ricordo che Farmaco Perché mi sono svegliato E ho detto Chi è che fa la gara adesso Mamma mia Infatti io ho fatto la batteria Per fortuna Contra l'Europeo Possono gareggiare Quattro atleti Per nazione A gara Invece il mondiale Sono tanto due Come le Olimpiadi Però di quei quattro atleti Sono tanto due Possono passare in semifinale Esempio Noi italiani Facciamo il primo Secondo terzo tempo Delle batterie Il terzo rimane fuori È una regola Insomma io Quell'anno lì Cioè Quell'anno lì Stavo malissimo Infatti ho detto Cerchiamo di far la gara In qualche maniera Non avevo energie Faccio la batteria Faccio un tempo Tremendo Guardo alla fine E gli altri due ragazzi Avevano fatto molto peggio Di me Avevano fatto Adesso mi riprendo Un pochino Per il pomeriggio Per la semifinale Semifinale Sono riuscito a entrare Con Cos'era L'ottavo tempo Proprio a pelo Ho detto Ok Adesso ho almeno La mattina Del giorno dopo Per poter recuperare Ancora E poi niente Poi in finale Sono lato quarto Allora Prima intanto Sei arrivato al finale E poi inizzo Lato quarto Te volevo interrompere Però C'è un problema Di dissenteria O comunque roba così Per uno che sta in acqua E fa degli sforzi In piscina Non è bello È la cosa peggiore Mamma mia Non è bello È la cosa peggiore Che ti può capitare Non è per niente bello Perché poi Poi proprio Saranno a fare Tutti i movimenti Di bacino Che facciamo Con le subacquee Cioè hai avuto un'immagine Un po' di effetto Seppia Capito Ma guarda Se l'avessi fatto Secondo me Magari potevo arrivare Anche sul podio Quella volta Ma manca più E effetto seppia Capito Il nostro Cioè comunque Se sta andando male Puoi diventare memorabile Capito Esatto Cioè rimani Poi negli annani Di youtube Chiedi almeno Due soldi a youtube Ragazzi Cioè qua Sti miliardi Di visualizzazioni Cioè Capito Quindi se ti classifichi Magari sta andando Un po' male Pensaci La cagata No vabbè Però Mangiare in giro Per il mondo È sempre È sempre difficile Cioè Altra domanda Invece Visto che tu sei veneto Come Come la gestisci La cosa Cioè il rapporto Con l'alcol Il vostro superpotere Diciamo Però non puoi usare Diciamo che Cioè sì Come da Come tutti i veneti Vabbè ma chi è Che non piace bere Cioè alla fine Chi non piace bere Ha qualcosa Da nascondere Di base Però Ovvio Non posso bere Quanto vorrei Ok Durante quelle Che sono le festività Con i cugini Gli amici Chiaramente cerco Di recuperare Il tempo perso O meglio Il liquido perso Però ecco Lì Questo Questo nettare È così Diciamolo Buono È gustoso Però dal punto di vista Fisico È proprio È tremendo Perché per quanto poco Ti peggiora Quelli che sono I riflessi Ti peggiora Quello che è La sintesi Delle proteine Per costruire Quelli che sono I muscoli È tutta una serie Di cose Che comunque Noi dobbiamo Fare attenzione Perché come Facciamo attenzione Appunto All'alimentazione Cerchiamo di Mangiare un tot Di chilocalorie Appunto Giornalmente Per non scendere Di peso Per mantenere Sempre la qualità Del muscolo Ugualmente Dobbiamo fare attenzione Comunque Cosa beviamo Cosa integriamo Per questo discorso Quindi Sì Sono stati anni Abbastanza tristi Da questo punto di vista Diciamo che però Durante quelle Che sono le vacanze Insomma Sono una persona normale Ci dicevi Lo spritz Come lo bevi Lo spritz Lo bevo Col campari Non con l'aperol Poi Senza soda Cioè senza Beh sì No Quando lo faccio a casa Lo faccio sempre Senza Quello che è il selt O la soda Insomma Chi Quello che si Si mette dentro Per allungarlo Un pochino Però No Purtroppo Nei bar la mettono Ce la vendiamo Esatto Senti Ci hanno chiesto Tra l'altro Un ospite Che è venuto qua Il cantante De Mudonia Ci ha chiesto Come Ascolti musica Che musica ascolti Per prepararti Alle gare Vabbè Ci ho Su Spotify Proprio Ci ho La playlist Competition Ok E diciamo Che è Esclusivamente Hip hop Rap Anni 2000 2010 Ok Qualche pezzo Qualche pezzo House Però di Come si dice Di artisti Posso dirvi Kanye West Jay-Z Fat Joe Nelly Tutto Quindi straniero Sì Tutto straniero Cioè In realtà In italiano Ascolto molto Salmo I testi Comunque Di Salmo Poi tra l'altro C'è una canzone Che si chiama Daitona Di Salmo Come no Che è Bella cazzuta C'è proprio un pezzo Che dice Vai più veloce Vai più veloce E quella comunque C'è un bel C'è un bel C'è un bel Baby PM Che comunque Mi caricano In maniera giusta E I gemelli diversi I gemelli diversi Sommimibono Di quel Dei ricordi Comunque Nostalgia Che mi scende La lacrimuccia Capito Parliamo Comunque I gemelli Stanno nel cuore Di tutti quanti noi Però ecco Questo tipo di Musica Poi c'è in realtà Anche qualche Canzone rock Tipo dei Ramones C'è qualche Canzone di Rolling Stone Però sono poche La maggior parte Appunto tutto quanto Rap e pop Dei primi anni 2010 2000 Insomma Sono più Old school Non dico Old school Perché old school È un'altra Però Diciamo non ascolto Non troppo recenti No esatto Non tanto quelli recenti Perché I rapper recenti Non mi piacciono Mi piacciono più Quelli un pochino più melodici Come che ne so Post Malone The Weekend Ok Vabbè Drake Per me poi Rimane sempre Uno dei migliori Però comunque Drake C'è una carriera Longhissima Però ecco Questo genere Di musica Ascolto per caricarmi Invece un'altra domanda Mi interessava Ricchio Ci hanno chiesto Della carriera Da modello Diciamo Come è nata Ma allora È nato Cos'era 2012 Dovevo fare appunto Le Olimpiadi Ero già qualificato E tutto E fu il primo anno Dove Emporio Armani Sponsorizzava quella che era La nazionale italiana Prima c'era un altro brand Non mi ricordo qual era Quello è stato il primo anno Dove c'era IA7 Come brand Quindi loro iniziarono Chiaramente a investire tantissimo E a produrre poi Determinati prodotti Che esulavano Da quello che era Il brand proprio sportivo Tipo i profumi Cosa del genere E cercavano di metterci Dentro gli atleti Infatti io feci Lì La prima Diciamo piccola Campagna IA7 Insieme Feci la campagna Del profumo Era Armani Cold Una roba del genere Ci ho a casa La scatolina Che ci sono io Che metto gli occhialini Pazzesco Esatto Una figata pazzesca C'è tipo una foto Che ero in centro A Verona Tipo così Con il banner E poi da lì È iniziato Un rapporto Che ha durato Fino al 2016 Ok Dove poi Ho fatto Modello di intimo E di occhiali E poi nuovamente Dal punto di vista Sportivo Poi ho avuto Una parentesi Diciamo Francese Con team Di L'Oreal Quindi tutte quante Le creme No scusate L'Oreal Con Biotherm Quindi tutte quante Le creme Così E con loro Mi sono divertito Veramente tanto Con i francesi Perché poi Praticamente È nata Veramente Così per caso Cioè io Una sera Al cellulare Guardavo le mail Guardavo nelle junk E mi vedo Questa mail Ok Scritta Era in inglese Però vedevo Dall'ufficio Biotherm Apro La giro A quella Che era La mia manager Dopo due giorni Mi chiamo la manager Oh guarda Abbiamo chiamato Di qua di là Loro ti vogliono Sono qui appunto Di Biotherm Stanno facendo Tutto quante Questa nuova campagna Vorrebbero te Di qua di là Che figata Bello 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 Ok Dopo per Tot mesi Non li sento più E praticamente Ero a fare I campionati italiani Finisco le gare E mi fanno Poi mi chiamano La mia manager E mi fa Guarda Luca Tra due giorni Ti vogliono Quelli di Biotherm Si sono rifatti vivi Ho detto Porca miseria Ok figo Dove devo andare Dove devo andare A fare lo shooting In Francia Sicuramente Sì no In realtà Non è la Francia Cioè è Francia Però è un pochino Più distante Faccio dove A San Bart Nicaribi Come Cioè tra due giorni Ok cazzo tra due giorni Sì sì vai lì Tre giorni Shooting di qua e di là E poi te ne torni Ho detto Porca miseria Insomma io arrivo Con il mio coso N'aeroporto E faccio il check in E mi fa No lei Check in sbagliato Lei deve andare Check in the first Della first Hai capito Porca cazzo Cioè hai capito Abituato sempre a viaggiare Inchiudato Quindi Poi adesso è comodo Su Ryan Sì esatto Quindi mi sono fatto Grazie a loro La prima esperienza In first Dove tra l'altro Avevo conosciuto Una nostra Molto gentile Che mi ha portato Tutto il tempo Champagne Ah beh Io praticamente Dopo nove ore di volo Ero finito Sono arrivato finito E poi nulla Ho fatto questo shooting Qua a San Bart E lì ho scoperto Che avevo la compagna Di shooting Che era Non so se conoscete Candice Swanepo Il cognome Impronunciabile per me Che all'epoca Era un angelo Di Vittoria Secret Ah però Quindi potete immaginare Tipo Io avevo 24 anni Tu singolo in quel momento? No no Non ero singolo Vabbè Comunque Inarrivabile Cioè Comunque Bastava toccarla Scusarla A sentire il ciodore Cioè comunque Quando Cioè Me l'ha son vista Arrivare dentro Il coso dove C'eravamo provando Tutti quanti i vestiti E roba del genere E ho detto Ah te Ah Così E te tipo Sei presentata Ah è kind Ah Luca 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 Dotti Luca Dotti Esatto E quindi niente Poi è stato bellissimo Perché poi in realtà Appunto Poi dopo un imbarazzo Iniziale Abbiamo avuto modo Di parlare Sia con lei Con il team francese Loro molto carini E devo dire Molto più Brutto da dire Perché poi c'è sempre Questa dietribia Tra Francia e Italia Però mi sono trovato Molto meglio Lavorare col team francese Con i team italiani Dentro il team italiano Tante volte Tanti musiduri Tanta gente Che ti guardava Un po' così Poi mi sono venute Poi arrivate voci Che a tanta gente Non piacevo Che ci può stare Ok Per carità Però ecco Da una parte Ho trovato un mondo Quello diciamo Più dell'alta moda No dell'alta moda Della moda italiana Ok Un po' Anche durante delle sfilate Così Non prettamente vero Come ambiente Molto fatto di sorrisi Oh grande Coglione C'hai capito E E per come sono fatto io Il classico ragazzo di campagna Con la valigetta Che è venuto Nella grande città di Roma Per inseguire i propri sogni È un tipo di realtà Che non mi ci trovavo bene Cioè figo Bellissimo Perché anche fare le sfilate Con Armani Però è un ambiente tossico Dici meglio Però sì Un ambiente dove veramente Quelli che erano i rapporti Finivano Neanche nel momento In cui proprio iniziavano Cioè proprio Erano fuochi di paglia Quindi hai fatto anche sfilate Però Non le ho fatte Però Dal momento in cui lavoravo Come appunto volto Delle varie campagne Venivo sempre invitato Sia le sfilate Che gli after party Tutte queste cose qua Cose fighissime Per carità Sono comunque stato capace Di godermi al meglio Tutte le esperienze Perché poi erano Cioè mi rendevo già conto Erano esperienze Che esulavano Completamente Da quello che era il mio mondo Perché dici Ok sai Quando sei nel mondo sportivo Magari puoi Far parte di altri eventi sportivi Però è sempre sport La moda è completamente Qualcosa Di staccato Che sì Ok Si sono viste tante collaborazioni Tra sportivi E brand Però Sono veramente pochi Quindi io quando Tra virgolette Sono diventato Nella cerchia Dei preferiti Di Giorgio Armani Mi sono sentito Privilegiato Perché ho avuto La possibilità Di conoscere un mondo Che mai mi sarei potuto Immaginare Di farne parte Perché Mai nella mia testa C'era balenata L'idea Magari un giorno Faccio il modello Così No è comunque Qualcosa completamente Casual Da come sono io Però figo Sono state esperienze Stupende Belle Ti fai un bel bucio di culo Anche lì Comunque a fare Il shooting Perché bucio di culo? No No Perché Comunque Star dietro Quello con obiettivo Strozzi Perché star dietro Comunque con obiettivo Per 12 13 ore al giorno Cioè Capito Che bel casino No però Adesso ti faccio Allora Era 2013 Faccio il shooting Per la campagna di intimo Di Empower Money E c'era questo fotografo Pazzesco Ok Una delle firme più alti In assoluto Di fotografi di moda Gian Paolo Scura E Veramente Un genio Cioè Se vedi i suoi scatti Li riconosci subito Veramente C'ha Non lo so Fa magie Con la macchina Da fotografica E a un certo punto Mi fotografo Così Parliamo Che che era Un tipo veramente figo E così Di qua di là Tutte le pose Tutto figo Tutto tirato Così A un certo punto Mi fa Luca Pacco Faccio In che senso Più pacco E questo Come vai a fare Un pochino Ah va bene Ah va bene Cioè Se tu da fare Il set Si può modificare dopo Si può modificare dopo Non ci stanno ancora No C'è tutto naturale E in mente Invece Un'altra volta Super imbarazzante Feci questo video Per youtube Era la campagna digitale Per un anniversario Mi sembra Il diciottesimo Il ventesimo Addirittura Di un profumo Di Armani E dove Vabbè Ve la faccio breve Lo storytelling Che era che io Ero un giovane Apollo Che nascevo Dalle rocce Ok Poi iniziavo a correre E questa corsa Rappresentava La mia evoluzione Dall'un certo punto Spiccavo un volo Spiccavo il volo Quindi c'avevi Tipo le corde Che ti alzavano No 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 Il discorso Che ho fatto Tutto quanto Questo video Andato a Parigi Un cappannone Gigantesco Un freddo tremendo Completamente nudo Cioè io avevo 30-40 persone Della crew Ok Perché poi Luci Quindi gli elettricisti Tecnici Tutto quanto Così E io con sto coso Te l'hai rimanato Da un po' No perché faceva freddo Poi anche Capito Quindi era proprio Era proprio tremendo E io dicevo E mi facevano fare Ste scene Perché sai Finché dovevo fare La scena Dove da così Mi dovevo alzare Tutto fico Ok Era un po' nascosto Poi a un certo punto Dovevo stare così Tutto quanto Impettito E poi dovevo iniziare A correre No Quindi È stato veramente Guarda Tremendo Una roba Una roba Una roba Atroce Una roba Atroce In fortuna Pagavano bene Solo quello Io devo dire Ti volevo fare Una domanda Sull'antidoping Ma va bene così Sì ormai La rincacciare Esatto Troppo serio Andiamo al nuoto Dai che buu Che schifo il nuoto Ebbè abbiamo toccato altre passioni Non so Al di là del nuoto Altre passioni che hai Formula 1 Vabbè sì Sì Magari fosse una passione vera e propria Poterla fare No Cioè la Formula 1 È una delle cose Che mi appassiona di più Comunque da Da sempre Da ragazzino Proprio Era uno di quelli Che quando vinceva Schumacher C'era mio Cugino Matteo Che è molto più grande di me Che mi Prelevava letteralmente Mi metteva in macchina Con i suoi amici E andavamo a sbandierare Pazzesco In giro per le strade Capito Perché una volta Si usava Stava qua Sbandierare Ora non si usa più Ne hai vista qualcuna dal BO Eh sì Dove sei stato? Sono stato negli ultimi anni Allora ho fatto Conta Monza Nel 22 E poi l'anno scorso Ho fatto Monaco Austria Poi aspetta C'era Abu Dhabi Sempre ho fatto La finale di campionato Abu Dhabi Sempre nel 22 Poi quest'anno Ho fatto Monaco Austria E a ottobre Sì era ottobre No Inizio ottobre Fine fine ottobre Inizio novembre Ero in Brasile Ad allenarmi E sono stato a San Paolo Pazzesca Sì anche perché poi C'ho comunque Amici all'interno Ok Sono tanto amico Con Mario Isola Di Pirelli E riusciamo sempre In qualche modo A farmi avere Quello che è Un pass Così Nel paddock Quindi Poi conosco anche Un ragazzo Che tra l'altro È qui di Roma Marco Che lavora Per l'ex Alfa Tauri Che adesso Oggi è stato annunciato Il nuovo nome Ah ma dai No quello è vero Sì E Quindi ora Ho Un buon giro Diciamo di conoscenza Anche nell'ambiente Poi anche quelli di Sky Conosco molto bene Quindi ho la fortuna Quando posso Quando riesco E quando Hanno loro disponibilità Chiaramente Di poter sgattaiolare Insomma Monaco Perché quella Sembra proprio Iconica Allora Monaco È tanta roba Perché Allora io Poi a Monaco Ci vado ogni anno Perché comunque C'è una gara di nuoto Quindi comunque Sai la vedi In quella che è la sua bellezza Ma a Monaco Comunque piace molto Il discorso della Baia Così Poi Fa figo Nel senso Cioè Vedi tutti questi macchinoni Sti mischi Sti mischi Ormeggiati Che costano L'ira di Dio Proprio un fascino D'altri tempi Diciamo E Vederla nel weekend Di gara Sentire già Non dico mentone Ma Quando sei molto vicino Quello che è il rombo Delle auto Quella che magari Anche la GT3 Cup Che comunque Corre prima O le altre categorie Sentirle Riecheggiare Attorno a tutte quante Comunque le colline Che circondano Monaco È figo Cioè Per uno che comunque Vive il motosport Come emozione E non soltanto Come il glamour Che ormai lo accompagna Come l'evento Diciamo che Ormai hanno creato Giustamente ad hoc Attorno alla gara Automobilistica È qualcosa Che ti fa letteralmente Godere Pazzesco Però Però La cosa Cioè Tra tutte quante La gara più bella Da cui sono stato È stata Monza Vabbè perché poi lì Da tifoso Cioè Vedi proprio Sto fiume rosso Monza Esatto Cioè Comunque anche Ero sotto il podio Perché quell'anno lì Leclerc arrivò Secondo Che partiva in pole Tra l'altro Pass specifica E sono numerate Senza quella vignetta Non ti fanno passare Perché ci sono delle persone Adette che ti guardano Ti controllano Sennò ti buttano fuori A calci nel culo Insomma A un certo punto Ero lì che cercavo di capire Come cazzo fare Perché avevano finito Ste cazzo di vignette E io volevo riuscire A intrufolarmi Certo Però niente Vedevo Niente A un certo punto Che arriva Arriva Malagò Presidente Lecconi E c'erano tanti altri atleti C'era tipo C'era Tamberi C'erano Che cavolo C'era C'era Aiutami Quello che ha vinto Adesso la MotoGP Bagnaia Bagnaia Insomma C'era un bel po' Di personalità Dello sport E allora Mi vede e fa Luca Vieni Faccio Grande Giovanni Insomma Metto là con lui E mi fa Dai 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 che andiamo Dai che andiamo Dai che andiamo in pista Ma Giovanni Io non c'ho Ma te passi con me E allora praticamente Abbiamo fatto il giro Da dietro Non da dove si entra Solitamente Ma proprio da dove Escono le macchine Alla fine del Del coso Del corridoio Diciamo Del pit stop E quindi siamo passati Proprio diciamo Dalla linea di traguardo E io mi sono fermato Così lì In pole position E c'ho il video Su cellulare Che praticamente Arriva proprio Leclerc La macchina Carellata di Leclerc E c'ho il video Che fa C'è Leclerc Che esce fuori dall'auto Proprio a tu per tu così Mamma mia E in quel momento Ero proprio L'apice del godimento Sì 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 C'è capito Da appassionato Proprio di motori A 360 gradi E' stata veramente Una roba assurda E poi Ti dicevo Sotto il podio Comunque sentire Tutta sta fiumana Rossa di gente Che appunto Inneggiava Leclerc E la Ferrari Tanta tanta roba Il pubblico caldo Che dicevamo prima Esatto Quello Monaco Per carità Non c'è quel calore C'è la storia E' comunque uno dei gran premi più Vecchi Più antichi Comunque Che si correva anche prima Che venisse messo dentro quello che era il calendario di Formula 1 Però non c'è lo stesso calore E' tutto un po' più pettinato Più ambientale Esatto Stanno le modelle di Vittoria Sigret C'è stato C'è stato C'è stato C'è stato C'è stato Pieno Lì è veramente pieno Guarda Però Sono completamente delle cose diverse Cioè ho visto anche l'Austria Per dirti Che comunque poi Essendo pista Red Bull Mi aspettavo sai Il discorso anche di tutti quanti I tifosi olandesi E tutto Però sempre meno Cioè comunque Anche se sono tanti I tifosi olandesi Che giustamente seguono Max Il casino che facciamo noi italiani È un'altra cosa È un'altra cosa È proprio un marchio di fabbrica Cioè Proprio italiani Questa stessa esperienza Si sono fatti un paio d'anni fa I nostri amici Che sono andati Hanno visto 12 giri a vuoto A Monza Un paio d'anni fa Che è successo Che l'hanno interrotta Dopo un giro Sì Ah si sono fatti tutta Safety car Cioè la parte finale Era tutta Safety car Ma veramente È finita Subito Vero è vero Tremendo Lì Lì si deve andare anche bene Perché poi magari Oltre a condizioni meteo O condizioni di gara Che poi succede qualcosa È quello il discorso Però Però per esempio A Monza A me piace tantissimo Vedere la gente La passione che ha Perché poi ti rendi conto Vabbè io Chiaramente sono Privilegiato Perché riesco a essere Diciamo proprio Il centro dell'azione Però vedere l'appassionato Che si prende il posto In prato Si fa magari Lascia la macchina A Milano Si fa 20 chilometri A piedi Perché a Monza È un casino A me piacciono Ste storie qua Capito Cioè Quello è il bello Dello sport Visto da fuori Con la passione Fa le braciolate Capito È una figata Cioè infatti dico Ok sì è bello Tutto fico Ok fare le foto Con le macchine Di qua di là Però anche in quelle situazioni lì Sulle curve Sugli spalti Sui prati Si vive proprio Anzi magari Molto di più Quello che è vero La vera passione dello sport Perché poi in mezzo a queste A queste situazioni qui In mezzo veramente al paddock Vedi tanta gente Che fondamentalmente Non ne frega un cazzo Delle macchine E di quello che è realmente L'automobilismo Sì è un evento Dove farsi vedere Comunque la Formula 1 Però se gli chiedi anche Due robe sulla Formula 1 Non hanno idea di cosa sia Non perché io adesso sia L'esperto numero 1 Il mondo di Formula 1 Però sono appassionato Mi piace La seguo da quando ho memoria E per quanto poco È qualcosa che Quando c'è la domenica Io sono così O così Capito da qualche parte Sì 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 Proprio super appassionato È un super appassionato Di calcio Che si segue Da propria squadra In trasferta O comunque In qualche modo Via streaming È uguale Sono io con la Formula 1 Certo E ci hanno chiesto pure Cosa pensi di fare Quando smetterai Cosa ti piacerebbe fare dopo Ci hai pensato? Allora Beh C'è da dire che Un punto saldo Di quello che è il mio futuro Chiaramente Ad oggi Cioè Viene rappresentato Da quella che è l'arma Dei carabinieri Io parto come Forestale In realtà Perché nel 2009 Sono stato arruolato Con il gruppo sportivo Forestale Poi nel 2017 C'è stata la manovra Che ci hanno inglobato All'interno Del corpo Dei carabinieri Quindi ora Io Una volta che finisco Di nuotare Posso diciamo Rimanere Posso diventare un tecnico Ok Quindi magari cercare di rimanere In quello che è il gruppo Sportivo Dei carabinieri Oppure comunque Prendermi qualcosa Quello che è un ruolo All'interno del gruppo Però forestale Dei carabinieri Perché io rimango comunque Di qualifica forestale E Poi ho Questo progetto Della mia Swim Academy Dove appunto Cerco Di insegnare Ai più piccolini Con quella che è la mia esperienza E Anche quella di Diciamo di miei colleghi Della nazionale Quei piccoli trucchi Del mestiere Gli facciamo fare Tantissimi esercizi Di tecnica Che è la cosa Più fondamentale Da imparare bene Nel nuoto Gli facciamo capire Quello che significa Essere un atleta professionista Dal punto di vista Di nutrizione Di preparazione mentale Di preparazione fisica Perché gli facciamo fare Anche degli esercizi A secco Senza andarli Troppo Diciamo Da faticare Il livello di giunture E altre cose E Poi Che cerco sempre Di creare Magari delle situazioni Dove la sera Arriva un altro ospite Che possa far loro Comunque dei discorsi Non dico motivazionali Ma che possa raccontare Quella che è la loro esperienza Tipo quando andavano a scuola Come erano in grado Di gestire Il discorso Scuola E nuoto Che è sempre difficile Visto che comunque Il nuoto ti porta sempre via Almeno due Due ore e mezza Al giorno Poi gli spostamenti Possono diventare anche di più Quindi c'è sempre il discorso Ma non facevi fatica Non dovevi rinunciare E quindi hanno bisogno Di sentire E vedere poi Concretamente Esatto Degli esempi Di ragazzi Che come loro Hanno attraversato Questi tipi Diciamo Di dinamiche E che poi Ce l'hanno fatta Di base Infatti quest'anno Cioè lo scorso anno A settembre Ho invitato Questo ragazzo Che è Mio collega Nel gruppo sportivo Di Caramiri Che si chiama Matteo Restivo È un ragazzo Che fa i 200 d'orso Medaglia di bronzo Agli europei E un anno e mezzo fa Si è laureato Con 110 lode In medicina e chirurgia Facendo le olimpiadi E tutto Quindi a maggior ragione Ho voluto portare loro Questo esempio Perché ho detto Ragazzi Cioè Ha fatto medicina e chirurgia Cioè penso che sia Una delle facoltà Più difficili Comunque in assoluto Riuscendo Comunque a essere Un sportivo professionista Riuscendo a vincere Medaglia di europei Riuscendo ad andare Alle olimpiadi Quindi capite che Non per sminuire Quello che fanno loro Perché dici È in quel momento Da loro vita È il massimo È il massimo È il massimo livello Che possono avere A livello di studio E anche di sport Però ho detto Ragazzi Ce la potete fare Qualsiasi sia la difficoltà Nello studio Nel nuoto Sapete che ce la potete fare Dipende soltanto Quanto forte la volete Quella cosa lì E proporre loro Comunque degli esempi Così forti Li vedi che Cioè Li mangiano comunque Le parole che dicono Questi ragazzi qua Noi questo podcast Lo facciamo Proprio per dare consigli Ai giovani Che vogliono fare Il mestiere Dell'ospite E tu Proprio dall'inizio La puntata Hai dato un sacco Di consigli E continui a farlo È fighissima Sta cosa pure Della scuola Infatti dacci il link Linkiamo tutto Ok ok Grazie Un po' di bucita Esatto Però no no Hai fatto veramente Da solo Quello che ti avremmo chiesto Magari dopo Strafigo Beh Sì È qualcosa comunque A cui tengo Veramente tanto Infatti ora che Saranno gli ultimi anni Della mia carriera Questo qui Diciamo il mio ultimo anno Vero e proprio L'anno prossimo Sarà un pochino Un anno un po' A scemare Dove appunto Metto a posto Le cose per il futuro Quindi dal prossimo anno Voglio cercare di Implementare Quello che è il numero Di date Dell'academy Visto che quest'anno Cioè negli ultimi Cinque anni Soltanto una volta L'anno Potevo riuscire a farla Per dare proprio modo A più ragazzi Di poter venire Anche magari Spostandomi io In giro per l'Italia Perché ad oggi Sono sempre riuscito A farlo Solo a Lignano Sabadorio Che è appunto Su in Friuli Però per certi ragazzi È difficile raggiungere Lignano Sabadorio Perché chiaramente Magari il ragazzino Calabrese O Pugliese Insomma del sud Italia È un viaggio Porca miseria Ad arrivarci E non tutte le famiglie Comunque hanno La disponibilità Di prendere Portare personalmente Ragazzi Che la maggior parte Dei casi Sono minorenni Fino a Lignano Tornare indietro Oppure star lì Cioè voglio riuscire A creare qualcosa Che sia più intinerante Per poter dare Un tipo di servizio A più gente possibile Da questo punto di vista Cercare di poter Ispirare Nel mio piccolo Insieme a poi Anche gli altri ragazzi Della nazionale Che mi vorranno Accompagnare Nel corso degli anni Più gente possibile Insomma Perché insomma Lo sport è bello È bello praticarlo È bello vincere da solo Però poi La condivisione È la cosa più bella Che comunque Accumule Secondo me Tutti quanti gli sport La condivisione Di quella che è la passione I valori Del sacrificio Del bucio di culo Ste cose qua E Non quello d'Armani No C'è sempre sacrificio Però Cioè È quello È bello Quindi questo qua È un altro Diciamo Progetto mio Che vorrei Portare avanti E farlo diventare Sempre più grande E Poi appunto Vorrei riuscire a diventare Un allenatore Vorrei diventare anche Un istruttore di subacquea Visto che ho la passione Della subacquea E mi piacerebbe Approfondire anche lì Quella che è Diciamo La conoscenza Della materia Insomma Tante emozioni Un po' di roba Esatto Cioè Quando avrò più tempo Di esposizione Ok Più tempo libero Sicuramente Più cose Mi verranno in mente Perché chiaramente Come vi dicevo prima Ogni giorno Noi siamo in acqua O in palestra E poi quando Finisci i allenamenti Hai la testa Che veramente Non stanca di più E tante volte Arrivi a casa Ti sdrai E parte Letteralmente Ci vuole pure il riposo Sì Soprattutto Ma tu le stadi Dici vai al mare Oppure dici Tipo no Vado in montagna Io solo mare Io solo mare Solo mare Solo mare anche perché Anche se sono nato Vicino comunque Alle montagne Tra virgolette Più belle del mondo Perché sono le Dolomiti La mia famiglia Non è stata mai appassionata Sai Di settimane bianche O di camminate in montagna Cioè Mio papà sì Ma le detestava Quindi comunque Chiaramente Le donne comandano Quindi Non andavano in montagna Chiaro La regola Numero uno di vita Si va ostia Si attraversa Tutta l'Italia Quindi No Noi siamo sempre Stati al mare E poi io appunto Ho questa passione Comunque Forse è nata Per l'acqua Ho iniziato Da due anni A provare Anche a far surf Qua a Fregene Con un gruppo di amici Ho detto Provo Provo a far surf Quando infatti la gente Com'è stato? Difficile? Ma Cioè Allora Cioè Non faccio surf Sto in piedi Su una tavola Che è una cosa diversa Le basi diciamo Ok esatto Perché poi la gente Mi dice Ma fai surf No Calma Perché Non è la California Sì sì No ma guarda Siamo andati anche a Santa Marinella Per carità Dove comunque Le onde più grosse ci sono Però infatti Ero già un pochino Più in difficoltà Però Però è figo anche quello Perché poi a me piace Stare proprio in mezzo al mare Anche star lì Aspettare l'onda Anche magari Una decina di minuti E che ne so Sei lì O al tramonto O all'alba Sei te Poca gente È bello Cioè È un bello ambiente Sono uno di quei pochi nuotatori A cui non dà fastidio Stare nell'acqua alta Anche post allenamento Esatto Comunque sì Stare sempre in acqua Da questo punto di vista Che Dell'acqua alta Poi perché per esempio Ci sta Lollo sempre Per esempio Che c'ha Non dico paura dell'acqua alta Però Se tuffa da 3 metri 5 Quanto fa pure Lollo Però quando si tuffa in mare Si caga sotto Sì ma è una cosa comune Fa tuffa prima lei Fa tuffa prima lei Dice Di me com'è il fondale E che guardi Se torno con la gamba rotta Come devo dire La cavia Capito Il professionista Però Ma è una cosa in realtà Molto comune Quella della paura Delle acque libere E soprattutto Di non vedere il fondo Di non vedere quelli Che sono Dei confini E tanti nuotatori Non nuotano in mare O non hanno neanche Il coraggio Di mettere la testa sotto Perché si trovano Un pochino disorientati Da questo punto di vista Beh ci credo Dopo tutte quelle ore Ogni giorno E anche E anche un po' La paura dell'ignoto Perché comunque In mare Non sai mai Quella ci si possa Essere sotto Insomma Ma tutto se stai A fregiene poi Eh capito Senti qualcosa Che ti prende la caviglia C'è io Potrebbe essere Qualsiasi cosa Volevate chiedere Dell'antidoping Che io volevate chiedere Sì Ci sta questa domanda Come funziona L'antidoping Se ti è capitato Insomma E allora Funziona così Quando diventi Diciamo Forte Ok Entri in quello Che è un registro Che prima è nazionale Poi è internazionale Nel quale Tu appunto Metti quelli Che sono tutti Avanti i tuoi dati E le tue Le tue Come si dice Location Mi viene in inglese I tuoi Diciamo Indirizzi Ok Dove ti alleni Dove è il tuo domicilio Dove Che ne so La casa Al mare O ste cose qua E tu Giornalmente Se hai degli spostamenti Devi aggiornare Quella che è un'applicazione All'epoca era Un sito internet Ora c'è un'applicazione Che è molto più comoda Di dove ti possono trovare Almeno Un'ora Al giorno Per poter eseguire Quello contest A sorpresa Io infatti Mettevo sempre Comunque Diciamo Le sei del mattino Perché ero sicuro Che in quel momento Stavo a casa Perché poi magari Ti può capitare Una cosa L'ultimo minuto Che devi prendere Riuscire Fare una cosa Oppure il traffico Qui a Roma E magari Fai un ritardo Di un'ora e mezza Così come se fosse niente E magari Ti arrivano I dottori Dell'antidoping Non ti trovano E ti danno magari Un warning Per quella che è stata L'assenza E noi di warning Ne possiamo prendere due Al terzo Vieni squalificato Non è proprio il caso E funziona appunto Dove che tu metti Quella che è la tua Casella di tempo Nella quale dai La disponibilità A essere testato E loro in maniera random Vengono Ok A farti quelli Che sono i test Antidoping Che possono essere Appunto Classiche urine O in determinati casi Anche quello che è Il prelievo del sangue Con i test di quello Che è i valori Dell'ematocrito E tutte quante Queste cose qua E poi Durante le gare Viene sempre Estratto Un atleta A sorteggio Ok così Di quelle che sono Le semifinali E le finali Per poter fare Comunque i test Test antidoping E poi scusa Questa è una cosa Mi ricordo Anche tremenda Se a poco Era successo Non mi ricordo A che sportivo Che poco tempo Prima di una gara Una partita Hanno fatto Questo prelievo del sangue E comunque Non è buono Facciano una cosa Mi sa che era Djokovic Forse Forse era Djokovic Mi sa che era Djokovic E sarà incazzato Perché hanno fatto Il prelievo del sangue Poco prima Della gara E non è il massimo Però voi fate Urine Noi facciamo urine Però qualche volta Ci hanno fatto anche noi Il prelievo del sangue E Se io tipo Personalmente Che ho sempre La pressione Abbastanza bassa Quando comunque Ti tolgono Almeno 6-7 fielette Comunque la senti Nelle ore successive Cioè capito Sei un attimo Wow Così con la testa Che ti gira Se poi devi giocare Una partita Il tennis Che a maggior ragione Che dura ore Posso capire Quella che è stata Insomma Il fastidio Che ha provato Djokovic Insomma E Però Ti possono arrivare Letteralmente Da un momento all'altro Perché comunque Anche durante i mondiali Ti possono venire in albergo In qualsiasi tipo di situazione Ecco Pronto Luca Ciao Siamo qui di anti-doping Siamo qua sotto Ci apri Ah sì sì Vi apro Vi apro adesso ragazzi No no Non vi apro Ma come non ci apri Eh no Sono in Veneto ragazzi Non sono avvicinato a Roma Ma come Eh Sono dimenticato E vabbè Niente E lì ho preso Il warning Capito Però una volta Che prendi un warning Ti metti subito così E anche se vai a fare la spesa Dici Ok L'ho messo L'ho aggiornata Refresh Refresh Fammi controllare Esatto Esatto Quindi agli amici dopati Consigliamo di non mettere le sei Di mattina Tanto non funziona Esatto T'arrivano comunque Sì 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 Non conoscono il sonno Esatto I controllori dell'anti-doping Decisamente Un anno Cioè Quello che sono i warning Poi la fedina Si pulisce Poi si pulisce Dopo un anno Si pulisce Chiaramente Fai che ne so Mi arriva oggi un warning E poi me ne arriva un secondo Che è ancora consentito L'anno parte dal secondo Che ne so Mi arriva Il controllo Lo salto tra un mese Poi so che io Ho non 12 mesi Dal primo warning Ma 12 mesi Comunque da quello più Quello più vicino Cioè veramente Tanti Sì 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 certo Ma certe volte Ti arrivano magari anche due volte a settimana Ammazza Ci sta Capito Il problema è che Noi siamo molto controllati Chi Dici chi Ecco qua Il problema è che Noi siamo molto controllati Letteralmente In giro per il mondo È la stessa cosa Ma Chi lo sa Ah tu dici Noi nel senso europei Sì Noi europei Della parte diciamo Occidentale Dell'Europa Siamo molto molto controllati Quarto orientale diciamo Diciamo che purtroppo Cioè è brutto Pensare male Ok Però lo storico Loro Insegna Insegna questo Ok Tra l'altro c'è anche Un documentario Su Peccati magari proprio Alle gare Tremendo Cioè il discorso I russi Domini di Stato Così Ma c'è appunto Un documentario Interessantissimo Su Netflix Che si chiama Oddio Non mi ricordo più Ora mi viene in mente Poi lo doppiamo al massimo Fai Fai Un labiale Che Racconta la storia Di questo giornalista Che come passione C'è quella del ciclismo E partecipa a questa Corsa amatoriale Non mi ricordo neanche Il nome di questa corsa Che è una delle più dure In assoluto Tra tutti quanti gli amatori Corsa a tappe E decide di farla E l'anno seguente Decide di documentare Tutto quanto Sul percorso Dove si dopa Dove dice Io voglio doparmi Così posso Evidentemente In maniera appunto Statistica Mettere a confronto Quelli che sono i dati Di me Che sono comunque Un amatore di buon livello Da pulito A me amatore Dopato Il miglioramento Che ho avuto In quella che è la Garana E praticamente Lui poi Nel corso Di questo documentario Viene a conoscenza Di questo dottore Che lavorava in Russia E tutto quanto E poi succede Quello che è un intrigo Nazionale Dove questo dottore Deve scappare Dalla Russia Era in concomitanza Con i giochi Invernali Di Sochi Del 2014 Dove venne appunto Scoperto Quello che fu Un po' Il discorso Di dopo Indistato Di provette Che venivano scambiate Nei condotti Dell'aria Lì all'interno Del villaggio olimpico Di soci E tutto quanto E scoperchiò Quindi quello che fu Era un vaso Di Pandora Bello Bello cazzuto Da questo punto di vista Senza volerlo All'inizio Questo giornalista E lì Da sportivo Ti guardi Queste due ore Passa di documentario E chiaramente Rosichi Come un assassino Perché Capisci Che determinate nazioni Comunque Non hanno scrupoli Per far eccellere Quelli che sono I loro atleti Noi siamo Controllatissimi Siamo veramente Europei Così Possono arrivare Non dico adesso Ma quasi In giro per il mondo Non sai se Questi criteri Così rigidi Vengono applicati Anche nei loro casi Quindi una siringhetta Ogni tanto Dici La vedevo pure Una fianetta Una siringhetta Giù di qua Giù di là Noi ci prendiamo I sali A fine allenamento Cioè Tutta altra cosa Da questo punto di vista Ma invece Ti lo chiedi Perché Per esempio Recentemente Nel calcio C'è stato il caso Di un giocatore Papu Gomez Che è stato squalificato E lui dice Perché per sbaglio Mi so preso lo sciroppo Di mia nonna Può essere Ma voi dovete stare attenti A tutto proprio Io ogni volta Che prendo un farmaco Che magari io non conosco Scrivo direttamente Al medico della federazione Faccio doc Gli faccio la foto Lo posso prendere questo Mail Che rimane Subito Esatto E faccio Lo posso prendere questo E lui mi dice Sì No Evita Capito Certo C'è il rischio Che magari c'è una piccola sostanza Che ti frega Anche perché quelle che sono poi Le sostanze che vengono vietate Vengono aggiornate ogni anno Da quella che è la Vada L'agenzia Antidopio mondiale Certo Di anno in anno Quello che magari Oggi È Accessibile L'anno prossimo Magari non lo è più Perché hanno fatto Ulteriori studi Ulteriori ricerche Hanno visto che comunque Magari a lungo Possono portare modifiche Del tuo corpo Delle tue prestazioni E quindi devi sempre stare In bolla Cioè ci sono poi comunque Dei casi Di contaminazione anche Tipo Quando vai a mangiare Che ne so La carne Devi fare Attenzione Non qui in Europa Per fortuna Perché siamo soprattutto in Italia Siamo molto rigidi Su quella che è la provenienza Della carne Ma tipo Ti vai a mangiare la carne In Inghilterra O in America O in Sud America Dove magari La pompano È ormonata Roba del genere Ci sono tanti casi di atleti Che Poi sono stati risultati positivi Per determinati tipi di ormoni E dicono Dove cazzo Perché hanno mangiato Magari al ristorante Ed era contaminata Quella che è la carne È una contaminazione Che una persona normale Non crea alcun tipo di disturbo Non crea alcun tipo di disturbo Neanche l'atleta Però comunque Ti rimane la traccia Dentro il muscolo Capito Risulta poi come valore alterato Poi Ovvio che ci sono storie Eccessive Dove c'è gente Che ha cercato di pararsi Appunto Ma mi sono maniato il pollo Esatto Capito No ma no È stata una rubetta Così Sta sempre poi A quello che è L'organo di giudizio Cercare di capire Dov'è la verità Certo Perché ci sono certi casi Che sono eclatanti Che è stata chiaramente Che ne so La farmacia Che ha contaminato Quello che è il barattolo O meno degli integratori Perché magari Determinate pastiglie Vengono fatte Con lo stesso macchinario Che magari non è stato pulito In maniera corretta Insomma Possono esserci un sacco di casi Invece altri casi Che veramente Gente che magari cerca di aggrapparsi Agli spec Come al solito Che può avvenire Ecco insomma Il mio amico dei tuffi Una volta Aveva dato il medicinale A un gatto E che era Cioè era Dopante in realtà Lui non L'avrebbe potuto Ovviamente Ingerire E poi tipo Si è toccato le mani Si è toccato la bocca E poi è risultato Positivo al doping Il tuo amico Chi è? Lollo? No Perché se no Fa la finita L'altro amico Però è assurdo Cioè pure se metti Una crema A un gatto Certo Ma lì per esempio Che fai? Riesci a dimostrarlo E ti scaggionano Oppure comunque Siccome sei topato Lo devi dimostrare Tramite quello che Team legale Avvocati E tutto Icarus Project Il grande Esatto Ora Stefano Prenderà questo pesato Esatto E io così Icarus Project A caso così Senza senso Boom Tagliato No però è Stra interessante Cioè Comunque Ti fa aprire un po' gli occhi E dici Eh Io per esempio Eh Cioè è brutto da dire Perché Eh Riguarda a me Però quella volta che arrivai Secondo al mondiale Quello che mi ha dato davanti Il notatore brasiliano Fortissimo E tutto quanto Magari non era dopato Ok Però Fu beccato Due mesi prima Con Una sostanza coprente Con un diuretico Ok E fondamentalmente Il diuretico Viene utilizzato appunto Per cercare di coprire Nel caso tu sia dopato Determinati tipi di sostanze E infatti E infatti Viene fuori Un casino Poco prima Del mondiale di Shanghai Dove poi Tre suoi compagni di squadra Furono squalificati Lui no E lui perché no? Eh che chiacchiera Perché dove arriva Non mi ricordo Non mi ricordo Perché poi adesso Sono passati Tanti anni Sono passati 13 anni Però Lui riuscì appunto In qualche maniera Appunto Di mostrare Il discorso Di contaminazione E tutto Da parte della farmacia Evidentemente Lì Arrivati con la varigetta Cose da film Che però Avvengono Perché poi la realtà È sempre peggio E Infatti Quell'anno lì Mi ricordo Lui vinse Prima di questa gara Che facciamo insieme Il 50 del fino E ci fu Tutto il pubblico Che iniziò a fischiarlo Tutto il pubblico E l'atleta Che arriva a quarto Jason Dunford Era Kenyota Questo atleta Mi ricorderò sempre Che uscì dalla vasca E tipo Mi muò proprio Ero a cigrino Cigrino Ed era Incazzato Come una iena Poi questo ragazzo qua Questo ragazzo del Kenya Se andava qui in Italia A Caserta Con un team Guidato da Un allenatore italiano Andrea Di Nino Che aveva tanti atleti Internazionali Quindi comunque Ci conoscevamo E mi ricordo Che dopo la gara Passò Nella nostra zona Diciamo dove eravamo noi I ragazzi italiani Noi dicevamo Abbiamo visto Di quello di la fa Ragazzi Mi sono incazzato come una iena Sto guardando un doppato di merda Che poi Di base Non ne aveva bisogno A questo ragazzo Cioè comunque Ora stiamo parlando Comunque nell'ipotetico Certo certo Perché comunque Non è mai stato trovato Con una sostanza Dopante Però è stato trovato Con un coprente E teoricamente All'epoca Potevi essere Squalificato Anche con un coprente Perché dici Cosa cazzo Facevi con un diuretico Dimostrami Il necessario Utilizzo Di questo diuretico Perché ne avevi bisogno Cioè una sostanza bella Pesante Un diuretico Non ne aveva bisogno Perché aveva vinto Le olimpiadi nel 2008 Aveva vinto il mondiale Qui a Roma Poi rivinse nel 2013 Quell'anno fu un po' Un anno un po' Un po' strano Da parte sua Ecco diciamo E ripeto Non ne avrebbe avuto bisogno Perché comunque Era il migliore all'epoca Era veramente il migliore Però Però Cioè Ci stava Cioè no Ebbè rimane Quel dubbio Però rimane sempre Quel dubbio Capito Infatti io all'epoca Cioè Arrivai secondo Esplodei di gioia Felicissimo Incredibile Casino E mi ricordo Che dopo i giornalisti Mi fecero ritornare Sulla terra Dicendomi Eh ma cosa ne pensi Appunto Di questo atleta Perché te Potessi essere Campione del mondo Io lì per lì Eh È vero Cioè dicevo Ah cacchio Cioè non ci avevo pensato Perché per me era Arrivare secondo Era già stato Un risultato Della madonna Capito E E ho fatto Eh Che ti devo dire Ma sai che Adesso mi ti puoi piacere Cosa ti devo dire Però è nato così Certo 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 Speriamo nella buona Nella buona fede comunque Di questo ragazzo L'unica cosa che possiamo fare Va bene Mi ho vinto a batteria Da Da Delle camera Ecco Quindi Raga abbiamo finito Raga si è fatta una certa Grazie Grazie mille Grazie per essere stato qui Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie per la chiacchierata Bocca al lupo per Parigi Allora Bocca al lupo Crepi Crepi Tocco tutto Salutiamo i nostri amici E ci vediamo al prossimo punto Ciao Ciao Ciao